Buongiorno, sono Riccardo Letti, sono il direttore di Iconica Minotto per comprare l'alertura di grafico. Mi è stato chiesto perché abbiamo scelto il nuovo come partner della Magata di Capitalia. La risposta è molto semplice, perché era la scelta naturale che i clienti hanno chiesto di fare. Sostanzialmente vendendone le artigrafiche, vendiamo la maggior parte delle nostre tecnologie a clienti che hanno stampa offset all'interno e che conoscono naturalmente il punto di vista di carta marinata e affidata.